Buongiorno a tutti, oggi faccio le veci del nostro preside che purtroppo non può essere con noi per motivi familiari. Sono molto felice però di questa opportunità che il collega Alberto Bologna ci ha dato di invitare Dante Bini. Sono felice intanto perché è importante avere una figura che così significativamente e anche in una maniera che secondo me deve essere ancora molto esplorata, si lega a quel filone di studi e di ricerche che caratterizzano l'Italia di un determinato periodo e che però secondo me in questo momento si rivela particolarmente significativo e importante. Nella ricerca il tema dell'innovazione è centrale e credo che tutta l'opera di Dante Bini esprima profondamente questo tema in una maniera anche, se posso usare questo termine anche un po' anticonformista rispetto al contemporaneo. L'innovazione nel contemporaneo riguarda sistemi tecnologici importanti e fondamentali ma che probabilmente con l'architettura, con lo spazio urbano hanno forse poco a che fare. Nei termini necessari che appunto le strutture urbane e l'architettura richiedono. L'innovazione diciamo in relazione anche al concetto di durata delle cose. Secondo me l'esperienza di Dante Bini diventa ripeto particolarmente significativa e importante. Quindi doppiamente adesso avremo poi i nostri colleghi Alberto Bologna e Anna Irene del Monaco che lo introdurranno e sicuramente diciamo entreranno più nel merito di questi piccoli accenni che io ho fatto e quindi li ringrazio, ringrazio voi che siete qui e ringrazio soprattutto Dante Bini di offrirci oggi questa mattinata che sarà di certo e sicuro interesse. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio anche io, nostro ospite per averci onorato per la sua presenza e il collega Alberto Bologna per aver promosso questa occasione. Io elencherò semplicemente una serie di questioni, una sorta di appunti a margine. La presentazione vera e propria di Bini la farà Alberto perché è stato il promotore e l'ideatore di questo evento. Ci sembrava interessante dal punto di vista della scuola di dottorato, oltre alla celebrazione di un autore che è autore per il suo saper fare, per il suo essere stato un operatore, un intellettuale importante nella nostra disciplina e collocarlo all'interno di una costellazione che non lo vede isolato nel suo modo di essere architetto e in qualche modo anche per dare continuità alle attività che sono state svolte negli ultimi mesi nella scuola di dottorato. Le questioni di questi appunti al margine sarebbero quando l'innovazione e i brevetti hanno toccato la facoltà di architettura di Roma e naturalmente nella costruzione dell'architettura e dei suoi linguaggi. Dicevo la continuità con l'evento che si è concluso proprio la settimana scorsa e quindi questo è il primo nel quale è un ciclo di incontri intitolato Versus che ha visto autori di cerche e libri su Libera, Muratori, Ridocchi, Cuaroni, Zevi, Sacripanti, Moretti e Monaco e Lucichenti ragionare sui maestri romani. Ma quali sono i maestri romani che più possono essere associati all'opera di Bini? Ma ritorneremo anche su quelli che ho appena citato. La facoltà di architettura di Roma è la facoltà che ha ospitato per 12 anni Pierluigi Nervi come docente al quarto anno. Ha avuto anche Riccardo Morandi come docente incaricato di Ponti e Sergio Musmeci è comunque stato un personaggio dentro Sapienza. Questi tre autori importantissimi hanno fatto brevetti, hanno avuto una presenza internazionale molto importante, hanno difeso quella che oggi il contesto sociale ed economico e devo dire anche culturale mette a rischio, pensando alla figura dell'architetto, cioè l'architettura intesa come opera di ingegno. Rispetto all'idea di architettura intesa invece come servizi e come concentrata e in qualche modo anche depauperata all'interno del codice dei contratti pubblici che quindi smembra la sua qualità di tipo artigianale e intellettuale. I brevetti fanno parte della tradizione di questi autori fin dai tempi di Attilio Muggia che fu maestro di Nervi e che fu il primo pioniere che introdusse il brevetto in Nebic nell'uso del cemento armato. Nervi deposita 40 brevetti, Morandi 7 solo sulla prefabbricazione e di Musmeci si sa chi volesse approfondire quelle schede della professoressa capanna sull'enciclopedia Treccani, forse magari potrebbe anche proporne una su Tantebini. Scusa, allora no, attenderemo a lungo per avere una... C'è un'altra cosa interessante che verrà fra poco richiamata a proposito di costellazioni. Nella vicenda biografica del nostro ospite è stato importante Salvadori, Mario Salvadori. Qualche anno fa anche il professor Mario Docci che è stato preside 12 anni ci parlò delle sue stati ad avere delle elezioni private con Salvadori che per motivi privati a cui incontrava in Toscana. Ci sono delle vicende personali molto importanti che spero ci vorrà anche testimoniare dal punto di vista della sua famiglia, l'origine, cioè come nasce un Dantebini, nel senso che non nasce certamente soltanto perché frequenta una facoltà o incontra alcuni maestri, ma c'è sicuramente sempre un inizio che ha origine della famiglia. Quali sono però anche gli altri maestri romani perché poi una volta la storiografia è anche il modo di pensare all'architettura per generazioni in castona certi personaggi e in una nicchia dalla quale fanno fatica a venire fuori. In fondo anche Ridolfi di cui si è parlato qualche settimana fa, grazie alla sua connessione con Franco e alla presenza di Waxman a Roma, è stato un personaggio che ha praticato questo genere di questioni. Molti di loro poi hanno avuto sempre a che fare con la produzione di un manuale e questo è anche un dato interessante. Guardando le opere che vedremo oggi mi è venuto in mente anche un personaggio su cui ho avuto modo di approfondire negli anni precedenti che è Colin Lucas, un architetto anglosassone che fece parte negli anni 20 e 30 di un importante trio, Conner Ward e Lucas, di cui poi a un certo punto non si parlò più. Ma tutto nasceva anche lì da un padre inventore l'applicazione del cemento spruzzato per realizzare delle opere di residenza innovative che proponevano un design attraente che irrompeva in una Inghilterra piuttosto dormiente all'inizio degli anni 20. La prefabbricazione e Colin Lucas l'aveva associato appunto un altro architetto romano, Pietro Barucci, ma anche Pellegrin, Sergio Lenci. Molto spesso, ripeto, questi maestri romani vengono studiati all'interno di una serie di percorsi di ricerca che spesso li associano al loro linguaggio, all'epoca in cui hanno realizzato, anche alle tipologie edilizie che hanno affrontate, però si perde spesso questa importanza anche nel confronto con l'industria delle costruzioni che questi soggetti hanno avuto. Ci sono anche delle aziende che nacquero apposta, ad esempio la FEAL per la realizzazione delle scuole. Insomma, è un insieme di questioni che ci porta Bini, che non sono soltanto la sua opera, ma ripeto, essere inserito in una costellazione. ultimissima nota, egli è nato nel 1932, Michelucci è del 1891, quindi parallelo ai nostri maestri come ad esempio De Renzi e Leonardo Ricci è del 1919. Penso che sono dati più grafici interessanti da ricordare. E infine la questione che sperimentazione e innovazione sono concetti molto complicati e spesso è necessario avere l'impatto nella società e nella reattività che il prodotto che si introduce in modo che venga ricevuto in maniera opportuna e quindi è la grande sfida che penso che egli ancora, fino a non poco, non molto tempo fa, continuava a proporre ai suoi clienti attraverso la sua opera. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto Dina Nencini a Nirene del Monaco, oltre al Preside Carpenzano per aver reso possibile questa giornata e insomma darò alcune note introduttive a Dante Bini che dopo ci regalerà questa sua conferenza. Allora Dante Bini, come già stato detto, classe 1932, si è laureato in architettura a Firenze nel 1962. Nella prima metà degli anni 60, in seguito alle sue ricerche sull'efficienza statica delle strutture a volta, è che appunto il cosiddetto sistema Bini Shell, un innovativo sistema di costruzione di cupole in calcestruzzo armato a spessore ridotto, basato sull'impiego di casseforme pneumatiche e armature metalliche autoformanti. Nel 1964 solleva, letteralmente solleva, come ci mostrerà, la prima cupola Bini Shell a Crespellano, in Emilia, e un anno dopo mostrerà il suo sistema costruttivo ad un incredulo Mario Salvadori che pare avergli detto, se tu fossi stato un ingegnere non avresti mai concepito un'assurdità del genere. Nel maggio del 1967 Salvadori lo inviterà a realizzare una cupola nel campus della Columbia University a New York, un esperimento che ebbe una forte risonanza mediatica non solo negli Stati Uniti. Si può forse dire che da questo momento in poi la carriera di Dante Bini prenderà una svolta significativa legata alla concezione di edifici progettati a partire dall'intuizione di costruire calotte cementizie gettate in piano e poi letteralmente gonfiate per mezzo di una cassaforma pneumatica. Un sistema costruttivo che genererà edifici dalle più diverse forme e funzioni, progettati direttamente da Dante o da altri colleghi che ricorreranno ai suoi brevetti in costruzioni a cupola singola o date dall'assemblaggio di due o più calotte. L'invenzione tecnica di Bini è infatti in grado di guidare il progettista verso un'idea di spazio che si costruisce a partire dalle relazioni e sensazioni percepite dall'interno e che vengono solo successivamente tradotte in forme architettoniche visibili dall'esterno. Una brochure pubblicitaria sulle Bini Shell distribuite in Italia riporta come, qua cito, disponendo variamente l'armatura metallica e modificando il vincolo alla base si possono ottenere infinite variazioni di forma realizzando contemporaneamente elementi decorativi e rinforzi statici. In tal modo non si hanno praticamente limiti nello scolpire plasticamente gli spazi definiti dalle Bini Shell, inserendo e togliendo volumi e superfici in una successione di sensazioni che stimolano la sensibilità inventiva del progettista, scrive Dante. L'idea di un edificio concepito a partire da una calotta cementizia autoformante affascinerà anche Monica Vitti e porterà Bini a progettare e realizzare nel 1970 per lei e per Michelangelo Antonioni la famosa casa di vacanze in Sardegna, definita da Rencolas in occasione della quattordicesima biennale di architettura di Venezia come una delle architetture domestiche migliori degli ultimi cento anni. E questo certamente è l'edificio progettato da Bini ad oggi più noto qui in Italia. Il sistema costruttivo inventato da Bini trova tuttavia un grande successo all'infuori dell'Italia, in special modo in Australia, dove su invito del Ministero dei Lavori Pubblici delle New South Wales nel 1973, Bini si trasferisce con tutta la sua famiglia per continuare lo sviluppo dei sistemi di sollevamento pneumatico di strutture in calcestrutto gettato in opera, realizzando oltre 20 edifici con cupole da 18 a 36 metri di diametro. Dalla fine degli anni 70, trasferitosi definitivamente negli Stati Uniti, estende la sua ricerca ad altre forme di automazione della costruzione, applicando il principio dell'architettura autoformante a diverse tipologie di strutture, da quelle geodetiche in acciaio a quelle prefabbricate in legno, senza considerare l'invenzione di altre strutture pneumatiche utilizzabili e pensate addirittura per la Luna. Ad oggi sono stati realizzati oltre 1600 edifici con il suo sistema casseforme pneumatica in oltre 20 paesi e la ricerca avviata a suo tempo da Dante viene ancora attualmente ulteriormente sviluppata, con grande successo, dal figlio Nicolò nella sua azienda Bini Shells. Alla luce di questa sua grande esperienza nel campo dell'architettura e della costruzione, siamo ora tutti curiosi di sentir spiegare direttamente da Dante Bini da dove provenga questa sua idea di sollevare una cupola di 350 tonnellate di calcestruzzo armato, impiegando il medesimo soffio d'aria necessario per fumare una sigaretta e come conseguenza porgli la domanda che dà il titolo a questa sua graditissima conferenza che tutti noi ci auguriamo alla fine stimoli un dialogo tra te e l'auditorio, quindi Dante, come definisci l'architettura? Bene, intanto vi ringrazio a tutti per avermi introdotto in questa magnifica sala agli studenti, i professori, i laureandi della scuola di dottorato di scienze dell'architettura dove il preside, il professore Razio Carpenzano, presiede appunto come preside della facoltà. Io devo aggiungere una piccola cosa, se io fossi qui, se stessi in Italia, mi iscriverei subito a questa scuola di dottorato in scienze dell'architettura perché il nome mi piace molto. Alberto, ti prego di dirlo al preside. Comunque desidero ringraziare l'amico architetto Alberto Bologna che ha suggerito e promosso questo incontro. E naturalmente grazie a tutti voi per essere venuti, intervenuti. Vedo anche amici qui presenti, per esempio vedo l'avvocato Carlo Albini che mi ha, come detto prima, legalmente impedito di coprire di cupoli il giardino di mia moglie perché altrimenti mi avrebbe divorziato. Comunque è veramente un grande onore essere qui con voi. Ma Dante, come definisci l'architettura? Questo è certamente un titolo o una domanda molto challenging, quantomeno. Già mi intimidisce questo, questi impressive aulamania e sono coscienti del fatto che ogni mio tentativo di definire l'architettura, particolarmente in questo tempio, suonerà come presuntuoso, limitativo e criticabile. Allora, vediamo se posso salvarmi questo parektici. Giorgio ? Tutti ricorderanno che nel primo secolo a.C. questo celeberimo architetto romano, sentenziò che tale disciplina doveva riunire tre elementi o valori essenziali e usando le sue stesse parole firmitatis o solidità statica e strutturale, utilitatis ovvero funzionalità e utilità, venustatis ovvero bellezza e d'arte. In aggiunta a quanto sentenziato d'acco tanto senno, mi si consenta di aggiungere che oggi la definizione di tale disciplina non può precedere da questioni ecologiche. E qui faccio un accenno breve, l'industria delle costruzioni è quella che è più polluto tra tutte le industrie del mondo. Pensate, è l'industria ecologica più pericolosa che esista, quindi teniamo presente l'ecologia come architettura. Poi, secondariamente, io ritengo sia importante di come l'architettura viene costruita e dai materiali utilizzati, dal tempo corrente per il suo realizzato, dagli investimenti di persone e quattrini necessari per l'esecuzione materiale. delle architetture. Forse, parlando di architetture al di fuori del senso vetroviano, varrebbe la pena ricordare che dei 7 miliardi di persone esistenti oggi al mondo, il 20%, solo il 20% non dispone di abitazioni sicure, salubri ed esteticamente piacevoli. Il 20% dei 7 miliardi. ciò premesso, consentitemi di presentarvi una serie di immagini relative ai vari sistemi costruttivi che, nonostante quanto detto in passato da importanti critici, non faccio il nome, possono anche produrre buone architetture. Infatti, alcune sono state già premiate e vincolate le rispettive sopravvendenti monumenti di vari paesi in diversi continenti. Durante tale sequenza visiva in slow motion, che vi presenterò con slides, vi prego, e questo veramente vi chiedo, di sentirvi liberi di interrompermi in ogni momento e fare qualsiasi domanda, anche critica, così che mi aiuterete ad instaurare tra noi un semplice e piacevole dialogo, da cui impareremo tutti, compreso me stesso. Quindi io avrei inizio adesso alle slides e non posso evitare di dirvi come è nato il concetto di sollevare con l'aria una struttura in cemento armato. Questa è una storiera divertente, quindi mi dispiace dilungarmi su questa cosa, ma vi diverteranno. Stavo giocando a tennis sotto uno di questi palloni gonfiati con un mio amico di Bologna, ai Giardini Margheriti. Questa copriva tre o quattro campi da tennis. Tre, mi fa il posto di campo a tennis. Dopo una partita che è durata circa un'ora, un'ora e mezza con un amico Filippo Sassoli di Bologna, esausti, sapete che queste strutture hanno due porte. La prima porta, si chiude la prima porta per evitare che la pressione esca, poi si apre la seconda porta e si va a casa. O quando tentiamo di aprire la seconda porta, non riusciamo a aprire la porta. Spinti, spinti, finalmente ci rendiamo conto, appena aperte, intanto che era caduto mezzo metro di neve durante la nostra partita. Mezzo metro di neve su una struttura del genere. Sono tonnellate e tonnellate di peso. E noi non abbiamo sentito, e qui il punto, l'incremento di pressione durante la nostra partita. Una pressione che era già leggerissima. Siccome io ho fatto la tesi di laurea mia su una cupola a base quadrata, simile a quella dell'euro, molto più piccina, per una copertura di una catena di imbottigliamento, di un stabilimento onologico, io sapevo il quantità di io e di tanti strutturi per coprire una certa cupola e quindi ho avuto l'intuizione, pensando all'unica formula che ricordavo di scienza, di fisica, pressione uguale a una forza su una superficie. Se la superficie diventasse grande, la forza corrente per tirare su tonnellate di peso è insignificante. Tanto è vero che, come ha detto Alberto due minuti fa, si possono sollevare materiali per cupoli, 350 e più tonnellate di calcio di cesta, con la pressione che voi fate fumando una sigaretta. In termini tecnici, 0.5 PSI, oppure 60-70 centimetri d'acqua, che voi potete tirare su quella acqua con una cannuccia, data con la vostra bocca. Quindi questo fatto mi ha affascinato, totalmente dato, io sono dato al professor di buono, alessi e al professor Possati, che erano addirittura gli assistenti del professor Bellussi, se voi conoscerete di nome, e questo professor Possati dice, vieni, ma cosa stai dicendo? Io non ho tempo da perdere con te. Io, tu, gli stai raccontando. Cosa stai raccontando? Devi tirare su ferro, cemento, ma che dici? Buona sera, rivezzi. Allora vado un professor di fisica e dice, io voglio solo sapere dove sbaglio, ditemi dove sbaglio, e allora rinuncio a questa cosa. Anche il professor di fisica, dice sempre che per portare via la casa, queste idee sono un pochino esagerate, non ho tempo da perdere. Allora, io cosa faccio? Ho deciso, di farlo io. Vediamo, io ho un terreno vicino a Tresperlandi, di famiglia, facciamo questa puntata. Penso a una dimensione, dico 12 metri di diametro e 6 metri nel testo, mi va benissimo. In questa slide vedete proprio il processo costruttivo. Che, pensate, non esiste al mondo un altro sistema di costruzione che in 60 minuti ti racchiude un volume di una cuba di 36 metri di diametro. Andando avanti, ho detto, vabbè, adesso facciamo il progetto del mio studio professionale. Non chiediamo neanche il permesso al comune, così se non succede niente non faccio la figura giovane architetto a terra laureata. Mi ero preparato questa distribuzione interna della mia prima tutta. Dunque, naturalmente, i miei professori di ingegneria e di fisica, ma le da sempre di... come prima cosa lei deve pensare a una struttura di metallo che si autopostruisca. Ah, diciamo. Sì, questo lo ricordavo. Allora cosa ho fatto? Ho fatto dei cerchi concentrici, come si possono vedere qua, cerchi concentrici, però che sì, potevano abbassarsi fino a rendersi piatto e bidimensionale. Però io dovevo anche aggiungere e copiavo un pochino nervi in questa cosa delle strutture a forma elicoidale che andavano verso il centro. Ma come faccio a fare una struttura elicoidale che possa essere piatta e poi... Allora ho scelto l'idea di fare queste strutture che vedete qui con catene le quali naturalmente si raccoglievano a terra. Allora, ecco, che succede? Quale è successo? Io ho cominciato a provare il sollevamento solo del metallo a vedere se era vero che una struttura di metallo potesse essere sollevato neumaticamente. Naturalmente ero terrorizzato del fatto che il calcitrusso sarebbe caduto. Allora cosa ho fatto? Ho coperto l'armatura metallica con una rete da polli. una rete da polli una rete diciamo una fence come si dice in italiano una rete eh? E' recensione. E' recensione. del cemento armato. E allora qui vedete i dettagli però avevo il terrore che un po' di calcestruzzo cadesse ai lati. Allora quando sono andato dall'impresa di calcestruzzo dei costanti che cosa consigliate? Ah il primo le consiglio di usare molto ritardante perché secondo me va a finire che fa una piazzetta piana. Secondo oltre ai ritardanti anche i plastificanti perché passando da una posizione bidimensionale a una posizione spaziale raddoppia la superficie. Quindi dovete avere anche questa benissimo. Io comunque avevo già costruito questa questo sistema e poi butto il calcestruzzo. Quando ho visto arrivare l'autobetoniere ai 7 metri cubi che scaricava su quel cerchio a terra tonnellate di calcestruzzo si ricordavo che la mia idea del pressione uguale a una forza super superficie era valida ma ero terrorizzato veramente che non salisse niente. Invece ho cominciato vedete che la turbina che io avevo iniziato comincia a il materiale comincia ad ondularsi poi ha un terzo della sua forma prende la forma della pneumoforma così che chiamo la forma pneumatica e fa una cupola esattamente come l'avevo prevista. qui vedete i miei gli unici che hanno supporto che hanno proprio supporto come si dice in Italia li hanno sostenuto questo concetto erano i miei tre operai questo si chiama Viterbo no questo si chiama Giancarlo questo si chiama Viterbo c'è uno dietro che si chiama Giancarlo se io non avesse avuto il supporto morale di questi personaggi dopo quello che mi hanno detto all'università non avevo fatto niente questi signori dicono no no secondo me possiamo farci e allora cosa faccio ho fatto la mia cupola ho fatto dentro ho fatto il mio studio professionale non ci sono le fotografie interne ma molto interessante come è venuta e ho cominciato a fare la mia professione di dentro a certo punto mi sono divertito tanto a vedere che riuscivo a sollevare ferro e cemento con aria a bassissima pressione che c'è andata in un terreno che la mia famiglia aveva a disposizione e ho cominciato a fare delle succole una dopo l'altra come quelle che volevo fare in casa di Agri e invece mi ha proibito tramite l'avvocato Albini allora cosa succede? ho cominciato a fare di tutto ho provato qualsiasi tipo di taglio e qualsiasi tipo di spessore pensate che quella lì in alto è lo spessore di un centimetro e un quarto e un centimetro e un metro massimo e non è armata solo armata di molle perché ho avuto poi l'intuizione di controllare il sollevamento del cemento armato del cemento con la tensione delle molle cioè avevo delle molle piatte che durante il sollevamento si stiravano però controllavano il sollevamento perché quando cominciavo a pensare di realizzare cupoli 36 metri di alto doveva assolutamente controllare il sollevamento di questo materiale fluido additivario ma comunque fluido poi a un certo punto qui c'è una fotografia di una struttura che è questa che ha dell'inverosimile questa anticipa un discorso fatto a New York dove l'Alcoa all'Union Company of America ha detto vogliamo la licenza di questo sistema per tutti gli Stati Uniti per tutte le Americhe però dice abbiamo un progetto in Liberia dove c'è molta Vaux City e voglio che lei mi faccia una cupola che fa sombra una cupola che fa sombra è un po' difficile realizzare una cupola che fa sombra allora ho pensato di tagliare una parte della cupola girala in questo modo ed è saltato fuori tuttora esistente dopo 50 anni nel cosiddetto Mushroom Field di cui c'è un libro che salta fuori la parte del professore Carlo Tusi e intanto comincio a fare tutte queste queste prove e mi rendo conto che è veramente un sistema costruttivo affascinante e allora cominciamo brevetto con brevetto io ho 120 brevetti in tutto il mondo ecco a un certo punto decidiamo decidiamo di fare una cupola decidiamo perché a un certo punto ho coinvolto dei miei parenti di Milano che avevano soldini e allora decidiamo di fare una cupola di 32 metri di diametro per fare il laboratorio di ricerche questa cupola che vedete esiste ancora non è stata calcolata perché ai miei tempi non si poteva calcolare una cupola anche Heinz Zissler non riusiva neppure lui a calcolare un guscio una struttura a guscio perché non erano stati ancora inventati i computer tutti i final elementi i elementi finiti con cui si poteva definire le tensioni che hanno una cupola io che era anche ignorante in pasta d'ingegneria qui in questo caso vedete non so se voi notate che ci sono dei ferri che non sono più che non sono che non sono più che non sono più concentri ma ho avuto la banale idea di fare dei cerchi ancorati in un punto alle fondazioni che si sarebbero sollevati come i petali di una roda ciascuno un ingegnere che si chiama il ingegnere Alberto Michelagnoli che seguiva un po' qui e dice io ho questa storia di petali di fiori non posso accettarla invece questi ferri si sono sollevati esattamente come si aprono i fiori e si sono andati a finire esattamente dove io volevo senza neppure sapere il calcolo di questa struttura ed è ancora lì e si può vedere vicino a queste lato naturalmente da questa banale forma di ventola siamo passati a quella che io chiamavo stazione di pompaggio con anche gli elementi elettrici tutti attaccati perché pensate che quando ho costruito la mia prima cupola dopo della fatta sono andato a casa perché ero così contento e soddisfatto del fatto che ero riuscito a sollevare una cupola di 12 metri di diametro o 6 metri alti che me ne sono fregato completamente del fatto che sarebbe potuto cadere la corrente elettrica o per incidere o per un caso se fosse durante quella notte o se è capitato questo incidente io avrei smesso di costruire perché avrei costruito una struttura avrei fatto un piano invece che una cupola comunque lì attorno c'è una storia bellissima che alcuni di voi conosce che ha questa domanda ma vini come da Crespellano sei passato a New York questa non la posso raccontare perché altrimenti perdiamo troppo tempo comunque è interessante sapere come è stato questo passaggio intanto io mi divertivo a fare delle forme architettoniche possibili e ho cominciato a farne di tutti i colori anche questa sì ne ho fatte tre di queste qua una questa è franca una pegola e una abano terme quella che è rimasta ancora è quella di abano terme allora questa questa struttura dimostrava dimostrava che io potevo tagliare quello che volevo questa struttura con un pochino di buon senso sostenendo le parti e facendo gradualmente e questa è una dimostrazione di queste possibilità questa è proprio quella di abano terme che tuttora esiste di questo tipo è l'unica che esiste ancora dove all'interno è stato dipinto il firmamento quindi è anche molto divertente e interessante poi a un certo punto ho conosciuto questa splendida ma io ero un bravo sciatore scendo dal canalone di Tufana a Cortina e raggiungo il rifugio che si chiama Pietofana che Albini conosce molto bene vedo una mia amica si chiama Doris Mignatelli che era lì che faceva parte del mio campionese di saltinato con gli sci del mondo campionese del mondo di saltinato mi vede scendere eh si dà bravo scusa non l'avevo detto vedo che mi fosse io arrivavo giù facendo un po' il fighetto giù vieni qua ti presento una bella signora una bella signora ho visto anche anche da lontano la riconoscevo perché questa Monica Vitti era una bellezza abbiamo 38 anni tutti i due io e Monica perché lei era del 31 io ero del 32 io con due occhi così vado a vedere questa bellissima signora e le dico qui bisogna trovare il sistema di farmi ricordare per questo incontro cosa ho fatto cosa dico c'avevo gli sci allora mi è venuta un'idea come adesso ho fatto una piccola parentesi divertente come una volta incontrai Pavarotti anzi ho trasportato Pavarotti da Napavalli fino a San Francisco durante il tragitto anche lì e dicevo io questo personaggio devo in qualche modo riuscire a entrargli nel cervello anche nell'anticamera del cervello cosa gli posso dire perché sono il ignorante del mondo infatti di scena non dico chi mi ha detto questa cosa di musica eccetera e canto e gli ho lasciato il libro senti ma perché ci davamo dopo un'ora e mezzo di viaggio a sera scusami scusami tu i tortellini siccome lui aveva fatto un ristorante vicino a Modena che si chiama Europa 2 ma tu i tortellini li cuoci con l'acqua o col brodo che discorso mi eri anche simpatico urlando come un disperato una cosa del genere non si può neanche chiedere chiuso l'ho portato in albergo e salito però lui si è sempre ricordato di questo qui che ha chiesto allora con Monica mi ha detto cosa gli dico vediamo di provare a dirgli che io ero nella scuola italiana universitaria non l'avessi mai detto non l'avessi mai detto non l'avessi mai detto allora gli dico un'altra cosa che sono andato pochi pochi l'anno prima sono stati unitati ai New York a costruire una cupola nel campus del Palombino e la prima volta che ho visto questa bellissima donna aprire gli occhi e anche la bocca si è andata su invito e dice ci siamo abbiamo cominciato a essere di qualche interesse questa bellissima signora dico ma come hai fatto ah dico io uso l'aria per costruire le cupole in cemento l'aria si uso l'aria infatti dico c'è una fotografia su New York Times che fa vedere che di fronte a 7000 persone ho costruito una cupola nel campus del Palombino dice allora questa è una cosa che interesserà sicuramente a Michelangelo Antonio io soddisfattissimo di questo preliminare interesse di questi qui non ne sentirò mai parlare invece a un certo punto dice una telefonata sono Michelangelo Antonio come la telefonata del presidente della Repubblica del Perù questo qui dico questo qui è uno che mi prende il fondello si sono Michelangelo Antonio e ho bisogno di parlarlo dottore è un onore è un piacere sentire la sua voce poi dice poi non c'è tanto tempo da perdere può venire la prossima settimana a Roma io sto in via Vincenzi di Tiberio 18 subito vengo vengo di corsa vengo sono arrivato dove Monica mi ha accolto a casa loro abitano in due appartenenti uno sotto e uno sotto con una scala centrale che li collegavi perché non volevano farlo ufficialmente sapere ai paparazzi dove erano che vivono anche assieme e dice ma Adolì sente un profumo in casa di Monica e dice abbiamo preparato ho preparato non abbiamo ho preparato un lancio di cucina sociale Adolì felicissimo mi metto a tavola arriva finalmente Antonioni ci mettiamo mangiamo questa cucina questo cibo eccezionale era veramente Monica era veramente un gran cuoco non si parla di niente alla fine tutti i siti caffè si allora ha cominciato dottor Antonioni se vuole spieghi un po' come funziona il sistema e quindi siamo qui a posto io allora mi hanno subito intimidito perché non solo è stata il primo discorso e siamo qui a posto dopo un'ora del lancio dopo alla fine non mi ha più parlato io ho cominciato a spiegare il sistema beh alla conclusione Antonioni Mumia diceva niente vedevo che ero già verso le due e dico signore vi ringrazio molto la vostra che sia vi saluto e me ne vado via ci salutiamo e dico io di questi due non ne sentirò mai più parlare invece mi chiamava Antonioni mi telefona e mi dice senti si prepari che andiamo in Sardegna Sardegna vabbè io ho un po' piacere quando partiamo dal fiumicino perché allora si partiva dal fiumicino per andare all'opera allora trovo lì molto come un pesce tutto pieno di sé andiamo all'aeropera facciamo il volo durante il volo Antonioni dice senti io ho un progetto un po' strano vorrei incaricarlo di essere il mio architetto per una villa speciale in Sardegna a costa paradisi io sono onoratissimo di essere il suo architetto personale allora arriviamo durante il viaggio gli dice senta bene però ci sono delle condizioni che devo mettere io accettavo tutte le condizioni che proponeva in quel momento lì prima voglio che lei faccia solamente uno schisso a mano di quello che presenterà prima di questo lei deve vivere un po' l'ambiente deve rendersi conto dei profumi che emana il terreno della Sardegna in questo periodo dei terri il profumo del Ginevro voglio che lei ascolti il moto delle onde che si infrangono su queste rocce e mi ha fatto tutta una testa così però adesso vedo che stiamo dilungandosi un po' troppo quindi vi consiglio di leggere qualche cosa che hanno scritto questi signori qua su questa storia che è molto divertente la conclusione è che ho fatto la cupola Michelangelo-Antonione che è stata quella definita da Rem Koulos una delle strutture più interessanti dell'intervento passiamo ad altro perché se no non finiamo qui dunque questa è la cupola di Antonio che era coperta con graniglia di della stessa roccia che era nel circondario questo l'avete visto anche nel brochure e questo è l'interno Niccolò Cantonione voleva che io scolpissi questa struttura interna senza il vincolo di nessun supporto della esterna quindi io avevo completamente libertà di scelta e quando lui mi ha detto quando entro nella casa voglio sentire l'acqua tiepida dell'acqua piovane sulle mie mani in casa naturalmente io ho dovuto aprire una grande apertura sopra in corrispondenza di un di un giardino qui sotto e dentro la cupola c'era anche un ponte che portava da un punto all'altro non vi sto a descrivere questo perché è lunga è troppo lunga e non abbiamo tempo questi sono comunque quando Antonioni mi chiese senti io vini quando entro in casa mia voglio sentire il profumo dello spazio e del tempo dello spazio e del tempo ma come a quel punto ci dovevamo del tuo ormai ma come non hai mai sentito il profumo non so neanche lo sia vieni con me mi ha portato in una cava e ha chiesto a un operario di spaccare una pietra una pietra di granito rosa della sardegna appena questo qui dopo che questo qui è riuscito si è aperto Antonioni mi ha preso la nuca e mi ha preso senti questo profumo questo è il profumo dello spazio del tempo e vi dico il profumo è fantastico provate provate a spezzare o farvi spezzare perché è duro un granito e sentite questo ecco allora io ho fatto delle scale per scendere da un piano all'alto internamente alla cupa di granito grezzo spezzato anzi sono andati nella stessa cava ho detto quali sono i pezzi che buttate via li prendo tutti io e faccio la scala chiuso l'argomento perché altrimenti non ce la facciamo durante il percorso in aereo Antonioni ha detto guarda non solo ti chiedo di fare uno schizzo fatto a mano però io non ti pago altro che le spese non ti pago la professione il tuo lavoro come professionista però ci saranno dei miei amici un certo numero che ti incaricheranno a fare il loro professionista e loro ti pagheranno allora accettato subito uno di questi professionisti era il pittore Sergio Vacchi il pittore Sergio Vacchi dice io non voglio una cupola come quella che ho fatto di granito voglio che tu mi faccia un urago allora sono andato a vedere Burumini e questo qui è Burumini e scusa qua ho sbagliato ecco questa qui è l'accesso alla cupola del Sergio Vacchi che è proprio sempre l'accesso di un urago e questa è la cupola del Sergio Vacchi che lui voleva essere non un'abitazione però un atelier da pittore era inizialmente straordinaria questa cupola e credo che alcuni di voi abbiate i disegni originali poi è stata venduta molto il pittore e l'hanno trasformato in abitazione ma per fortuna non hanno cambiato questo accesso inuragico alla cupola di cui io andavo ero felice di aver fatto perché veramente è molto piacevole poi un altro amico di Antonioni che si chiama Piero Tissoni il quale era il proprietario del terreno venduto a Antonioni e dice io ho un'isola mi piace il modo che tu fai queste strutture così veloci e fai qualche panno voglio che ci siano almeno 8 abitazioni su quest'isola la divide in tanti quadrettini e poi ci mette su l'altro i quadrettini lo so come lo faccio allora siamo andate del Burumi io le faccio un Burumi un villaggio tipo Burumi allora scusate questa è una casa per la Luisa Spagnoli va bene andiamo avanti mentre io facevo queste cose abbastanza divertenti la Binichels di Milano che io ho fondata costruiva indietro per l'Italia tutte queste strutture fino a quando il governo pakistano in Pakistan ha detto io voglio che si usi il sistema Binichels per fare silo spergrano dalla cupola d'antagnoni passiamo al silo spergrano quindi vedrete la flessibilità del sistema costitutivo insomma in Pakistan ci sono 360 cupole di 32 metri di diametro realizzate ogni tre giorni per due anni consecutivi è una cosa che se lo raccontate nessuno ci crede ma andate in Pakistan e vedete questa roba incredibile va bene andiamo avanti poi naturalmente capitò che il Giappone nel 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 fece la 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 di di e e anche lì gli hanno chiamato e gli hanno detto vogliamo fare le condizioni non sto a raccontare questo perché andiamo troppo lungo fino a quando ricevetti a casa a volontà un'offerta da parte del governo australiano del New South Wales Addirittura firmato dal ministro dei lavori pubblici, Leon Punch. E allora dice, vado ad Adria, mi invita per un anno, andiamo giù e vediamo cosa succede. Vogliono che io faccia delle scuole, delle piscine, delle libraries. Adria dice, chiudiamo la casa, stiamo giù per un anno e ritorniamo in detto. Quindi, appena sono arrivato lì, io avevo a disposizione degli studenti che mi aiutavano a fare il progetto esecutivo, però io dovevo fare il progetto architettonico estetico. Quindi, questi sono tutti i miei che sono stati pubblicati dappertutto. E questa è stata la mia prima cupola australiana, dove avevo ideato una sfera che rappresentava il knowledge, come questa era una library che doveva contenere il knowledge of the world. La scelta esterna era il mondo che si apriva allo studente che doveva rendersi conto del knowledge of the world. Questa è piaciuta moltissimo e quella è stata premiata prima di architettura e anche, come si chiama, conservata, struttura da mantenere per la storia. E la cosa straordinaria, e vorrei che qui ci fossero degli ingegneri, non so che ci sono, vedete, questa apertura, questo taglio di questa cupola è immenso, è almeno un terzo della periferia. Eppure non c'è una, come vedete, non c'è un rinforzo periferico sul taglio. Perché? Perché è sostenuto da una sfera che si muove e respira come la cupola stessa. Se andate a vedere questa struttura, non vedete una crepa lungo tutto il percorso. Tanto che io ci sono ritornato con il mio figlio e dicevo, vediamo, è possibile che non ci sia almeno una fessura perfetta. Vabbè, questa all'interno ha due piani, quindi anche quella a scala interna, e poi guardando i miei figli che studiavano, io ho due bambini a quell'epoca gestiti da mia moglie, però quando andavamo a scuola, allora si sdraiamo sui prati in Australia, sempre bellissimo tempo. E allora ho fatto all'interno di questa cupola, come vedete forse in questa zona, ho fatto proprio dei recessi, delle scalette interne che dove i bambini stavano, infatti, stavano lì a leggere. E quindi si divertivano a sdraarsi per terra in quelle cose. Comunque, andiamo avanti perché se no, ne ho fatte diverse in Australia di queste cupola. E addirittura abbiamo cominciato con quelli di 36 metri di diametro. Volevo avvertire che quella gru che vedete lì serve solo per tenere su il cavo elettrico del sistema di vibrazione della stessa. E queste sono queste costruzioni che io facevo in Australia. Ma ragazzi, io sollevavo, tu cupola e 32 metri di diametro in una mattinata. Tra il getto, sollevamento alla vibrazione, ma una mattina. Sollevamento a 60 minuti, sempre. Dopo, naturalmente, si facevano le tante strutture interne. Comunque, gli australiani erano veramente soddisfatti di questo tipo di attività. Per cui ne ho cominciato a fare tante altre. Fino a quando mi hanno chiesto, nel nord del Queensland, di fare il più grosso complesso di pinnichels nel mondo. E questo era uno shopping center. Purtroppo è stato distrutto recentemente questa cosa. Ma è stata un'opera, da punto di vista architettonico, e da punto di vista tecnologico, fantastico. Perché non solo ho fatto tutta questa serie di cupole, ma una dentro l'altra, come quella di Narravena, no, quella che era la Ipray. Poi, mentre io in Australia, a fare cupole, il Duca di Edimburgo ha aperto una delle vini shares fatte vicino a Londra, a Marlon St. James College, Girl College. Potete vedere su internet. Tuttora esistente. disegnato, questa cupola, da Michael Edwin, mi pare chi si chiamasse, diciamo, con la licenza del sistema di licenza. Questa è stata una cosa che, alla fine, ha determinato il vincolo architettonico di questa struttura, anche per l'UK. qui vi racconta una cosa molto divertente. C'era un mio studente che sempre mi faceva delle domande un pochino particolari. Questo signorino qui, che mi mandava la forca, tutte le volte che mi vedeva, diceva, Vini, io ho i mobili quadrati, il mio letto è quadrato, è rettangolare. Io voglio che lei faccia delle cupole a base quadrata, perché le cupole tonte non mi piacciono. dico, da provare a fare una cupola piccolina. No, lei me la deve fare grande per essere abitata. Va bene. Ci penserò. No, non ho finito. Architetto Vini, lei mi deve fare una cupola dove lei non taglia degli elementi e li butti via, perché la trova una cosa assurda. Costruisce una cupola, poi taglia, butta fuori. Lei deve inventare un sistema per cui lei costruisce una cupola a base quadrata, che comprende anche le aperture, e che nelle aperture ci sia anche un arco perimetrale per sostenere tale apertura. Tutto nel sistema. Allora sì, ci ha inventato qualcosa di interessante, perché se invece ci riesce una copola e taglia o mette degli arti, non va bene. Questo soggettino qui mi ha stimolato a progettare questa cupola a base quadrata dove lasciavo, come vedete qui, delle zone della pneumoforma libere, non coperta né da ferro né da cemento. E poi, con l'aria, sollevo, cosa succede? Queste aperture, le aperture finali si gonfiano senza cemento. E quindi, cosa succede? Ti crea un labbro nell'apertura che viene automaticamente fatto e abbiamo cominciato a costruire queste conbe proprio come funghi e abbiamo fatto dei villaggi turistici. Eccolo qua, il disegno di questi villaggi. Sentite, perché non mi interrompete e non facciamo una specie di dialogo tra noi? Perché altrimenti io continuo a raccontarvi quello che ho fatto senza... Sì, ecco, grazie, il professore, mi fa un piacere. No, si è seduto! Assolutamente, assolutamente. Allora, porti un ucchie di alcun minuto che non può fruttare. Sono diventato un sorriloquio che non mi piace. Ma vicino, ecco. Ecco, tolgo. Io stavo pensando che c'è qualcosa di strano in questo ultimo mese nella mia vita. Nel senso che ero in Peru e scopro che alcuni studenti avevano scoperto delle mie architetture delle quali nessuno aveva mai parlato. e questi studenti io vado su Facebook in un tanto tempo una foto di questa architettura e sottoscritto chi ha fatto questa architettura? E un altro studente che era stato studente mio vado da fare e diceva questo è a parte del professor Rom e da lì è cominciata una serie di ricerche per cui questa architettura che secondo me nessuno conosceva gli studenti le hanno conosciuto. Una settimana fa vado al giornalario e mentre compro il giornale leggo che c'erano delle un titolo che diceva Miraviglia Umbis una cosa del genere l'undicesimo municidio di Cassano questo è un municidio dove io ho sempre vissuto sono curioso prendo e compro questo libro e trovo altre architetture pubblicate con un bell'articolo e su certe parti addirittura l'articolo faceva riferimento a certi miei avvicinamenti addirittura al Borromio e dico ma guarda questa cosa pensavo che nessuno se ne fosse accorto e invece io questa mattina avevo un altro appuntamento mi telefono dicendo guarda noi non ci possiamo vedere sapevo da Irene a me Irene che c'era la conferenza di questo architetto Dante Vini e gli ho detto ma allora va sono lì ma va perché allora a questo punto tutte queste coincidenze e tutte queste cose io nel 1965 e non so se tu avevi già pubblicato qualcosa a riguardo 65 forse c'è stato scritto ma non avevo pubblicato il mio libro ho pensato un'architettura tutte le cassaforme erano gonfiabili però non erano semplicemente pubbili ma è difficile io gonfiavo una serie avevo preparato un modulo avevo preparato una serie di cassaforme gonfiabili che tendevano al rettangolo anche se di forme triangolari ellittiche però tutte cose che potevano organizzarsi una attaccata all'altra con un cappotto diciamo con un contro un'altra organizzazione sempre pneumatica che montava su quella e quindi lasciava degli spazi che potevano diventare gli spessori sia dei solari sia dei tramezzi sia delle coperture e quindi piani anche 3, 4, 5, 6 piani una volta gettata questa cosa liquida all'inter si sgonfiava il tutto e si portava via e rimaneva l'edificio 1965 lo presentando questo progetto eravamo in un gruppo di all'epoca 5 persone io avevo 28 anni gli altri 27 uno ce n'aveva 29 l'unico laureato ero io gli altri erano ancora si dovevano laureare lo presentavamo questo progetto al concorso per gli uffici del Parlamento Tafuri che il nostro Giussi quasi sicuramente conosce vede questo progetto e viene al nostro studio ci telefona e si dice vorrei venire a trovare qua e là viene si interessa di questa cosa quando poi pubblica il libro sul Parlamento e i progetti del Parlamento a noi ci massacrano dicendo che non dico pazzi ma grosso modo una cosa del genere che eravamo puntati ad un futuro inesistente insomma tutta una cosa così tanto che noi stessi rimanemmo un po' delusi da questa cosa e non abbiamo continuato le ricerche sull'argomento ma la cosa principale che non ci ha portato all'argomento è stato il fatto che il liquido che noi proponevamo per costruire erano la plastica in qualche modo erano resine e termine indurenti e quindi professore vi ho chiesto una domanda non una conferenza per dire per dire che c'era che c'era questa cosa dell'uso di elementi compiati e stamattina lo vengo a sapere per la prima volta dopo anni che c'era un altro che aveva fatto prima direi perché io non ho fatto la prima volta io non sto dicendo quello però credo che io di queste cose all'epoca non avevo sentito parlare è questo che voglio dire professore grazie io non ho non ho fatto il progetto è rimasto lì però è pubblicato nel libro di Tafuri però dico non ho fatto nessuna ricerca successiva ne abbiamo pensato ad una come si dice certificazione eravamo in qualche modo ancora studenti anche se io ero laureato senta professore lei sa però che Mario Saladori e il Nes hanno costruito molto prima di me prima di lei delle cupole in Florida realizzate con palloni gonfiate spruzzando sotto il cemento quindi il discorso di spruzzare il cemento sulla forma pneumatica è una cosa vecchia la cosa la novità mia è quella di sollevare anche l'acciaio il ferro tutto il cemento tutto l'edificio intero cioè la struttura di un edificio intero gonfiato però noi avevamo trovato questo sistema di fare stanze sì sì davvero eravamo riusciti a fare pavimenti travezzi cinque piani sei piani cioè avevamo lavorato uno due la cosa che ci piaceva molto è che tutte queste strutture confiabili una volta messe sul territorio uno poteva vedere poteva vedere l'edificio già come veniva perché mancava solo lo spessore al volume interno lo spazio era costruito mancava solo la superficie che lo coprisse però nel frattempo poteva dire forse quel peso è troppo alto questo è troppo basso insomma eravamo entusiasti di questa cosa se non ci avesse bastonato pesantemente Tocuri avremmo portato avanti questa cosa con il fatto che sarebbe dichiarato semi matti e allora abbiamo detto diciamo anche quando le dicono di essere matti volete avere la forza e la diciamo la sicurezza di se stessa nella vante come anche io anche me ha detto però qual era il problema questa cosa era di plastica si 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 cominciava a dire ma la plastica è invadente indistruttibile questa quella e quell'altra altro liquido che possa sostituire la plastica oggi come oggi ancora adesso mi consente io le farò vedere che io ho sollevato con l'avia struttura d'acciaio mi dici grazie dell'intervento però mi sembra grazie come dire in linea certo è molto molto in linea molto in linea allora vi anche io no no non mi sono fermato allo studio di una cupola di cemento armato ho pensato che si poteva anche fare qualche cosa di più prima ho pensato e questo l'ho fatto addirittura nel 64 ho pensato di sollevare una cupola con la coibentazione termica e con la coibentazione acustica contemporaneamente al sollevamento dell'acciaio e del ferro e questo è stato il mio primo esemplare di sollevamento pneumatico anche delle finiture diciamo così ma questo mi ha dato anche l'idea che si sarebbe potuto fare una struttura spaziale di cemento armato non a cupola però a struttura innervata perché dovete sapere che io chiamo il pantheon il mio nonno intellettuale perché dico io posso arrivare a sollevare una cupola di 44 metri 45 metri di diametro con il pantheon facilmente l'unica cosa è di muovere questa enorme membrana e ancorarla perifericamente eccetera infatti tutte le volte che facevo una cupola di 36 metri di diametro che sono 10 metri dovevamo prendere un sacco di soldo per pulirla per piegare eccetera allora vediamo se si può sollevare una cupola anche di 40 metri di diametro usando solo delle strisce di plastica qui in questo caso vedete che sotto a queste strisce di plastica che vanno da una parte all'altra c'è un sistema di ancoraggio triangolare con uno spindle centrale dove io potevo bloccare dei componenti esterni quando io ho presentato questa idea al governo del New South Wales ha detto si finanziamo questo esperimento perché è straordinario pensate che un governo si è offerto di ingegneri architetti si è offerto di fare questa cosa dunque ho pensato intanto di togliermi dalla forma tonda fare la forma esagonale poi guardate che questo è molto interessante poi avevo anche il problema che molti prontolavano perché quando sollevano la cupola di cemento armato il copriferro non lo posso garantire allora come si fa a sollevare una struttura spaziale di questo genere nervata con armature metalliche che avessero la possibilità del copriferro e che fosse capace di da bidimensionale arrivare a tridimensionale già questa è una cosa molto interessante allora cosa ho fatto ho preso delle stelle di delle stelle di acciaio dei ferri di acciaio con degli con degli degli spessori tra i loro in modo che i ferri stessi non andassero a toccare l'uno con l'altro poi i ferri non andassero a toccare le casseforme periferiche e io sono rimasto sbalordito quando dopo che abbiamo gettato il calcettuso piano piatto sulla struttura per fare una cupola di questo genere tutto è venuto su con una facilità assurda per intervenire conto senza avere una forma pneumatica continua questa è stata una cosa che io stesso avevo molti dubbi tanti dubbi che per non perdere nessuna di questa niente di questa pressione ho fatto una membrana di politene a terra per evitare che l'aria passasse attraverso il terreno ma quando sono quando visto che potevo realizzare ho aspettato i 21 giorni per il calcestruzzo che facesse presa ho spaccato uno di questi elementi e sono entrato ho visto una struttura spettacolosa la cui acustica era perfetta ma il problema mio non è il fatto di sollevare rapidamente questa struttura che la posso fare in un giorno ma è dover aspettare i 21 giorni perché il calcestruzzo fa questa presa allora ho inventato un altro sistema ho inventato il sollevamento pneumatico di una struttura geodetica tipo quello di Mr. Fuller e allora le cui dimensioni potevano essere quello che voleva che si voleva allora qui vedete che srotolo è lì purtroppo c'è il limite di questa di questa dimensione della membrana srotolo la membrana la copro con degli elementi telescopici e poi sollevo il tutto e siccome questi elementi telescopici al momento in cui raggiungo la lunghezza stabilita dal calcolo si autogloccano spingo un bottone al mattino al mezzogiorno posso entrare nella struttura anche collaudata perché mentre la struttura è su io faccio il vacuum e succhio giù la struttura per cui io vedo la variazione dell'apice della struttura stesso allora cosa è successo vedete che qui ci sono dei dischi per terra svolgo una membrana su dischi poi ecco poi io sono lì sopra che guardo cerco di controllare la distanza tra i punti dove i nodi sarebbero venuti questo qui ho fatto una zip qui e sono entrato e ho visto esattamente come la struttura che io volevo realizzare e poi oltre al disco di sotto che è quello d'acciaio qui ne ho fatto uno dipinto di giallo che schiacciava la membrana quindi la membrana stava tra questo disco qui e questo disco qua poi ho messo una vite di bloccaggio su e poi ci mettevo naturalmente un nodo che doveva consentire al tubo che sollevava di seguire la posizione nello spazio allora qui sotto come avete capito c'è il disco di metallo di acciaio poi c'è il disco venizzato di giallo poi ci metto questo qui sopra più fermo tutto ed ecco io prendo i tubi periscopici e collego con questo con questo nodo centrale questo io quando feci la prima struttura lo faccio a Bari perché il professore Dio Guardi che ho incontrato a San Francisco cavaliere del lavoro e scrittore famoso disse questa cosa mi interessa moltissimo mi dia la licenza per l'Europa e io gli ho dato licenza per l'Europa e lui dopo aver fatto dopo che io ho fatto con mia responsabilità il sollevamento pneumatico la struttura geodetica dove non c'era niente altro che una turbina che portava aria all'interno guardate qui non c'è una gru io sono lì e questa qui è una piccola gabbietta dove c'è sotto una piccola turbina pensate che la pressione che voi utilizzate è la stessa pressione che voi avete nel come si chiama quell'attrezzatura che è sui capelli per dare un'idea l'unica cosa che è necessaria è una grossa quantità di aria ecco allora dopo mi è venuta voglia di togliervi la membrana e vedere cosa succedeva e questo qui è il risultato che questo primo esperimento riuscitissimo anche quello come il primo esperimento del Beniscus fatto nel 64 anche questo fatto un po' di tempo fa ce ne sono anche qui a Roma questa qui è una cupola che è qui a Roma per andare all'aeroporto sulla sinistra la vedrete è tuttora lì dunque le Bini Shares e i Bini Systems sono andati in numerosi paesi del mondo che io sappia alcuni l'avranno copiato però io ho come ho detto un numero di brevetti assurdo 120 brevetti depositati dappertutto tanto è vero che la Nato ha usato questo sistema per coprire gli elicotteri che dove andare in Africa praticamente erano come l'umà che si portava a casa la loro casa con l'oro e quello che li gonfiavano impedendo che il polviscolo potesse entrare negli elementi molto molto delicati di un elicottero dunque poi a un certo punto io mi sono laureato a Firenze credo col professore Savioli però il mio grande professore era il professore Quaroni Ludovico Quaroni e Quaroni mi prese in buona come si può dire e mi mi fece capire che il problema urbanistico è quello di realizzare l'infrastruttura e dice se tu realizzassi non l'avevi già detto questa frase ma però mi ha fatto capire che io se io realizzassi una città con struttura con fabbriche mobile che realizzassero l'infrastruttura cittadina avrei risolto certi problemi importanti nel campo urbanistico allora vediamo di fare un esperimento mi dicono i giapponesi perché hanno pagato questa ricerca in acque territoriali non troppo alte come si fa a fare le fondazioni allora proposi di utilizzare questo sistema devo andare molto veloce se no qui stiamo per troppo tempo e ho ideato senza progettarle delle fabbriche mobili che potevano realizzare anche delle strutture di metallo che fossero le strutture base di supporto dell'infrastruttura cittadina questa cosa fu talmente stimolante per i giapponesi che mi invitarono a ripresentare alle MIT di Boston le MIT io ho presentato questo e contemporaneamente i giapponesi qui ci sono tutti i dettagli del sistema di questa città i giapponesi che avevano già studiato stazioni spaziali questo qui è un attel orbitante sulla progettata dal dottor Matsumoto quello che mi ha invitato poi a fare una base sulla luna che è questa i giapponesi erano dicendo noi abbiamo fatto questo progetto ma non sappiamo come realizzarlo abbiamo inventato delle macchine perché non ci non utilizza il suo sistema pneumatico allora io dico ma è una cosa un po' superiore alle mie capacità comunque vediamo se mi viene un'idea e ho cominciato a studiare l'ipotesi di sollevare pneumaticamente come nel binistar nel sistema che avete visto prima dei tubi telescopici che avrebbero raggiunto una certa altessa e si sarebbero bloccati poi per essere più rapidi ho non solo progettato una forma pneumatica rinforzata ma addirittura una doppia sistema di sollevamento per cui questa struttura di un milio di altezza per un milione di persone poteva essere realizzata pneumaticamente se voi andate in internet e vi fate vedere Discovery Channel e siti in effetti vedete esattamente tutta la storia che per tempo non posso illustrare però vi posso dire e spero che tenete conto che con le forme pneumatiche si possano realizzare delle cose a parte il fatto che questa membrana è molto difficile di muoversi ma teoricamente si potrebbero fare benissimo delle strutture di 100 metri di diametro in questo caso io ho provato nel mio laboratorio di sollevare i nodi solo per poi mettere successivamente come vedete qui i componenti tra i nodi ecco adesso vi ripeto devo correre perché altrimenti non ce la facciamo ma mi viene in mente di ricordare che una volta i russi erano la Soviet Union era proprietaria della stazione spaziale dalla stazione spaziale hanno visto che in Pakistan si realizzavano delle cupole ogni due giorni in cemento armato adesso mi sto raccontando tutta la storia che è molto interessante allora mi invitano a Mosca perché per motivi politici perché a un certo punto volevano costruire delle case attorno a Mosca dove prendevano questi giovani che erano un po' accennorosi nelle strade e piazze di Mosca e portavano lo volevo portare in paesini attorno alla grande rete ferroviaria di Mosca attorno a Mosca un invito pagato dai moscoviti dal sindaco di Mosca mi viene a prendere una bellissima ragazza che è mia moglie e mi dice ma chi è quella mi porta a Mosca e mi dice senta dimmi abbiamo visto che con il suo sistema hanno realizzato in Pakistan una cupola ogni tre giorni per noi è una cosa assoluta prima credevamo che fossero dei palloni gonfiati poi abbiamo visto entrare e uscire dei camion che evidentemente non erano gonfiati in quel momento ci può studiare delle case fatte in legno ma gonfiate con l'aria io non ho mai fatto uno vediamo questo incarico ci vediamo fra un poco paghiamo il viaggio io vado vado ritorno a casa e a un certo punto qui se siete capaci di leggere quel libro ecco ho fatto una casetta così che si sarebbe gonfiata automaticamente e si potrebbero potevano essere anche abbinate perché l'uomo che doveva controllare questi giovani faccinerosi doveva avere una una daccia più interessante per lui e allora si possono anche abbinare questo è un invito che mi fecero per andare a Mosca e quando ero lì mi fecero anche fare il progetto molto interessante questo progettino siccome era il periodo in cui i sovietici volevano instaurare un rapporto non come ora con Putin piacevole con gli Stati Uniti ha detto fatemi delle cupole mi faccia delle cupole collegate con dei tunnel dove in ogni cupola viene illustrata una favola russa poi si percorre il tunnel si viene illustrata la favola americana di Walt Disney questo era affascinante e io ho fatto un progetto che poi non è stato realizzato adesso vi dico il perché andiamo avanti questi sono altri studi che ho fatto per creare altri edifici ecco voglio quasi concludere con il fatto come vi ho detto inizialmente dobbiamo gli architetti l'architettura deve smettere di pensare al mattone o anche al cemento armato dobbiamo pensare all'armatura del cemento senza ferro e allora io ho deciso di fare una cupola base quadrata visto che c'era il momento che tutti quadrano che poteva essere sollevata dopo su una struttura di fiberglass di fibre di vetro raddoppiata possa terra gettato cemento e sollevato questa qui è la cupola io a un certo punto ho tentato questo è il mio figlio Nicolò questo qui è il mio giardiniere che ha aiutato a fare questo qui come vedete questa cupola è senza pressione perché vedete qua che non c'è pressione nella cupola stessa però dopo un giorno e mezzo era già solida autoportante senza ferro dico è così solida che io adesso faccio partire la pressione che stava sotto e sollevo questa cupola dopo averla formata tenendola bassa obbligando la plomoforma di essere bassa e poi dopo con la stessa plomoforma seconda stagia portarla su l'ho portata su con mio figlio che sta su a guardare cosa stava succedendo e ho costruito istantaneamente una struttura sono armata con fibro ma perché dobbiamo insistere a fare l'armatura di ferro e quindi fare il copriferro per cui una struttura che il calcolo ti consente di fare questa è fatta così e deve essere così poi spendere un sacco di soldi per il materiale assurdamente assurdamente perché questa cupola non è stato collaudata ufficialmente ma l'abbiamo collaudato con dei carichi violenti forti anche dinamici non c'è una crepe ancora lì venite a trovarmi in Appavalli quella lì è una delle cupole che mia moglie ha fatto e dice basta finito questa è l'ultima che fai in casa è lì ecco e allora se noi gonfiamo una struttura elastica che abbia la forma che volete e l'armate solo con fibra di carbonio o fibra di vetro voi potete sollevare in pochi minuti tutto l'involupo di una struttura la più libera che potete avere che dipende dalla decisione vostra di ancorare la terra e di mettere al centro sì e no secondo la vostra volontà una specie di giardino per cui potete realizzare cose che sono disegnate dalla natura solo esclusivamente l'impegno dell'archiletto è disegnare la periferia e il centro dopo siete liberi come diceva Antonioni voglio vivere in uno spazio libero non vincolato dalle strutture portanti libero voglio scolpire l'ambiente che mi vuole vivere ecco allora potete realizzare case di questo genere quindi io e con questo io concludo cioè non dobbiamo limitarci a fare i progettivi vediamo di criticare la scienza della ricostruzione come oggi è vincolata con tutte quelle norme che abbiamo inventato noi superiamole superiamole teniamole se volete fare il strutture e volete compriperlo bene facciamole così però chi ti obbliga a fare l'armatura metallica l'armatura metallica è di una struttura a guscio per la quale non occorre l'acciaio ma basta strutture molto più resistenti che sono il carbonio e se voi andate a vedere sull'internet quella produzione che ha fatto quel film lungo perché dura un'ora e mezzo che ha fatto Discovery Channel e City in a Pyramid vedete che le strutture in fondo non sono di acciaio ma sono di nanotubes in carbonio che il 90% delle persone non sa neanche di cosa parla quindi dobbiamo capire e soprattutto una scuola come quella vostra nella quale mi piacerebbe essere stato iscritto però è assolutamente fondamentale di dimenticarci che i sistemi costruttivi attuali siano sistemi costruttivi adeguati ai nostri tempi e con questo metto perché ragazzi vi ho già rotto le scatole per troppo tempo però spero che vi siate divertiti perché non credo che molte persone possano far vedere una gamma così vasta di applicazione dell'aria compressa nelle costruzioni che io sono solo all'inizio dipende da voi dai giovani studenti ecco se ci fossero dei giovani studenti che non vedo quindi mi sembra di non vederli sono quelli che ti stimolano a fare la domanda di si senta abili come a me non piacciono le cupole mi piacciono le cupole non solo lo trovo stupido costruire una cupola e poi tagliarla e poi fare l'arco per sostenere ecco questo tipo di atteggiamento mentale deve essere inculcato ai giovani perché i giovani si devono sentire proprio obbligati a vorrei dire a valorizzare la loro intelligenza basta chiudo grazie dell'attenzione ciao grazie moltissimo di questa di questa lezione ma anche di questo invito conclusivo devo dire che è stato veramente molto bello molto entusiasmante anche vedere anche proprio l'attitudine della sperimentazione che ha portato diciamo a queste cose straordinarie che in qualche modo diciamo hanno anche un carattere pionieristico e quindi la scuola di dottorato e i giovani i dottorandi che la frequentano avranno sicuramente avuto moltissimi stimoli io penso diciamo che sia dal punto di vista dell'approccio allo studio la ricerca all'innovazione appunto come bene hanno messo in evidenza prima Anna Irene del Monaco e Alberto Bologna ma anche diciamo un po' all'ostinazione rispetto al lavoro e alle proprie convinzioni che questo diciamo poco fa con Alberto questa capacità anche di affrontare con un grande pragmatismo la risoluzione del problema che non significa non avere diciamo una visione anche uno sguardo appunto innovativo e molto molto sperimentale quindi grazie ancora della lezione grazie per avermi invitato non so se qualcuno vuole intervenire magari ci fosse qualcuno che facesse anche la critica di quello che vi ho detto eccolo qua così mi piace perché vi ho detto fin dall'inizio che preferisco avere un'interazione con tutti voi allora buongiorno e grazie posso respiro così ci riconosciamo respiro un po' d'aria ci solleviamo allora perché è stato pesante la cosa no 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 rispetto a questo affanno con il quale respiriamo dentro le mascherine dunque allora la prima cosa intanto ringrazio gli amici Dina Alberto domanda Irene per questa occasione beh io stamattina mi sono preso un paio d'ore di vacanza e sono venuto con l'idea proprio di divertirmi e mi pare e mi pare che abbia funzionato benissimo quindi insomma devo dire che la ringrazio molto perché conoscevo una parte molto molto minima del suo lavoro sia in termini di qualità sia in termini di quantità naturalmente diciamo una delle cose che rimangono impresse è la casa di Antonioni e Monica Vitti perché è una di quelle di quelle case che fanno parte diciamo dell'immaginario della modalità con la quale si può costruire in maniera alternativa rispetto alla tradizione un rapporto pregnante e forte con il luogo e quindi questa dimensione del profumo dello spazio e del tempo non è più da moltissimo e mi è piaciuta molto questa immagine che poi è vera quando si spacca una pietra del sentire proprio questo profumo che viene diciamo dal profondo della terra è lo spazio dallo spazio dallo spazio certo certo diciamo è una dimensione proprio nella quale uno come dire riscopre questa questa profondità che mi ricorda un colloquio ho avuto qualche anno fa con un architetto eguaduregno che si chiama Endel Guayasamil che racconta come lui ha fatto delle opere straordinarie che sembrano proprio la sopraelevazione di luoghi naturali la riorganizzazione di luoghi naturali e lui dice che nella loro tradizione quando si deve costruire qualcosa si chiede il permesso alla terra no e questa idea di andare a sentire l'odore dello spazio e del tempo il profumo del ginepro eccetera è proprio diciamo l'idea di chiedere il permesso no di entrare in questo luogo e di costruire qualcosa che entra a mio avviso in quel caso lì in perfetta risonanza con il luogo e mi è piaciuto moltissimo quel disegno del che non conoscevo quella astronomeria dell'interno della casa nella quale si capisce molto bene questo fatto che come se la cupola gonfiata arrivasse calata dallo spazio in qualche modo e invece tutto il sistema dell'organizzazione dello spazio venisse come dire crescesse dal suolo dalla terra e come diciamo i gradini della scala che girano attorno a quello spazio definiscono diciamo un qualche cosa che aderisce perfettamente al supporto e interpreta perfettamente quel supporto che poi è come dire in qualche modo protetto solamente protetto come come è il caso dei disegni di di Fuller dove le cupole calano dall'alto su spazi perfino su Manhattan e contiene diciamo questo microcosmo che invece è articolato ed è scolpito direttamente su quel luogo su quella materia su quel granito quindi trovo una dimensione personalmente io sono nel dottorato di paesaggio e questo aspetto diciamo della relazione tra architettura e paesaggio mi interessa moltissimo e mi interessa in quella declinazione lì nella quale l'architettura non mima la natura ma cerca di contenerla e interpretarla di farla propria in un modo che senza violentarla e però come dire con la forza dell'alterità del progetto d'architettura che non è che come dire non è la mimesi di quel luogo naturale è qualcosa di altro e in quel caso è molto corta questa dimensione seconda questione mi è presa moltissimo l'incontro con Monica Ritti personalmente diciamo qualche discesa sulle domande l'ho fatta pure io però non l'ho mai incontrata noi passiamo sempre sotto casa sua per via ripetta però diciamo ahimè poi non è che in un altro momento della solida purtroppo però diciamo un altro insegnamento molto forte che è questo dell'architetto progettista che in qualche modo cerca in ogni momento diciamo un rapporto con la convittenza con una potenziale convittenza come faccio a rimanere impresso a che è un insegnamento molto molto importante perché è chiaro che come dire un feeling diciamo un livello di comunicazione con Paralotti lo trovi con i tortellini ma attraverso i tortellini e il brodo magari riesci come dire ad aprire un barco e a parlare anche d'altro e quindi mi è piaciuta molto questa questa dimensione della della ricerca della convittenza e del modo diciamo di arrivare a a fare architettura attraverso diciamo strade diverse che sono diciamo tutte le possibilità che ci sono di noi di interlocuire con le altre persone l'ultima cosa la colgo diciamo nella coda dell'intervento quando lei ha parlato del del rapporto di uno degli ultimi progetti delle ultime sperimentazioni dicendo ho ideato senza progettare no? che a me sembra diciamo un modo un insegnamento molto importante questo soprattutto per i nostri studenti che spesso progettano senza ideare no? o meglio non parlo solo di loro parlo di tutti noi li correggo diciamo che spesso capita diciamo di progettare senza ideare nel senso di seguire percorsi già fatti già noti no? e invece questa idea del progettare dell'ideare senza progettare e che è quella dimensione pioneristica alla quale prima faceva riferimento la collega Dina Nelcini mi sembra un aspetto molto molto importante sul quale ragionare che poi è quella maniera come dire di fare un passo di fianco no? quello che diciamo poi definiamo con espressione abbastanza chiara no? il passo del torero il passo del cavallo in qualche modo no? che ti permette di vedere una cosa che tu hai sempre visto in una maniera attraverso uno sguardo diverso grazie ancora e complimenti grazie mille anche per questo commento io vorrei solamente aggiungere una cosa e questo me l'ha insegnato il mio figlio Nicolò dice in natura avete mai visto un pilastro collegato con trabreazione? la natura è curva tenete presente che mio figlio non perdiamo tempo ha un video sull'internet dove fa vedere che un uovo di gallina sostenuto da un cilindro con altro cilindro sopra sostiene 12 pezzi di mattoni cilindro se voi costruite una casettina come le passiamo noi collegando e gli mettete sopra un mattone va in frattone non solo ma lui ha provato a metterle su un piano vibrante anche in quel caso l'uomo ha durato a lungo essendo stato caricato da mattoni mentre la piccola casettina fatta con elementi incollati tra i loro non ha sostenuto quindi in natura se vogliamo avvicinarsi e stimolarci dai suggerimenti della natura non ci sono in natura forme rigide forme dritte addirittura Bachmister Fuller diceva una una retta è infinita dove è l'infinito dove va a finire credete sia sempre dritta non esiste in natura neppure una retta dritta perché anche la luce non è dritta perché se trova un insieme di forze magnetiche questa gira la luce nel caso della black hole curva dove dove questo l'ha detto Fulio non lo dico dove la linea retta che cos'è la linea retta non esiste nell'infinito non esiste la linea retta l'avevamo inventata noi sono le forme curve che la natura ci insegna non c'è non c'è una forma rigida in natura sono tutte forme che avvolgono curveline e concludo questo discorso perché ma mi ha fatto lei venire in mente il discorso della natura che ci insegna è tutto e con questo basta perché altrimenti ci annoiamo troppo grazie ragazzi grazie a tutti